Barzelletta del giorno Allora c'è uno che si rega ai pompe funebri E dice Senta dovrei fare un funerale perché è morto nonno Dice ah mi dispiace Dice cosa vuole Vi faccio vedere intanto la cassa Cioè vi faccio vedere la cassa intanto Intanto vi faccio vedere la cassa Guardi questa è una cassa in mogano Intarsiato Molto Molto buona la cassa Le maniglie in ottone lavorato Dice quanto siamo qui De prezzo Guardi stiamo intorno ai 6.000 euro No ma un po' di meno Qualcosa di meno Sai nonno era semplice Vabbè un po' di meno Abbiamo questa in faggio Poche intarsiature Maniglie In alluminio Stiamo intorno ai 2.500 euro Ma qualcosa di meno Io ho detto Nonno era semplice Beh qualcosa di meno Guardi abbiamo In pino Questa cassa in pino Niente interziature Niente Maniglie Intorno ai 1.100 euro Ma Nonno Nonno era uno semplice Ha capito Ma ancora qualcosa di meno Eh sì Se vuoi fare uno sconto Qualcosa Guardi ho capito Quello che fa per lei Aspetti un attimino Scendi giù in cantina Ritorna su con una busta Guarda 10,90 euro Tiè So 4 manie 2 arbraccia 2 gambe Sto portando i bari Sto portando i bari Sto portando i bari